Giulia e tutti duellanti ben ritrovati sul canale. Oggi siamo qui nuovamente insieme a Luca, sempre qua oramai, con la sua deck profile di Rescue Ace, se l'ho visto bene? Rescue Ace, purtroppo Rescue Ace. Vabbè, usciranno dei supporti quindi teoricamente non ha senso neanche dopo. No allora sarà sicuramente meglio ma non all'altezza neanche lontanamento del meta per quanto mi riguarda. Detto questo ragazzi prima di iniziare vi ricordo che se volete supportare questo canale potete andare sul link in descrizione di JackStore e acquistare il prodotto coreano con il mio link e il mio codice sconto. Inoltre se volete liberarvi di carte di Yugi, Magic, Pokémon, Dragon Ball, One Piece, Force Will e Digimon trovate il link del mio Instagram qui sotto in descrizione. Contattatemi, mandatemi le foto e se c'è qualcosa di interessante se ne può parlare. Detto questo io vedevo dei cojoni che stanno cercando roba di Magic e vi lascio la decklist. Come dicevo il mazzo fa schifo, nel senso che non arriva neanche a essere considerabile un rogue nemmeno lontanamente. Dai il mazzo lo devi vendere, non lo devi, cioè devi motivare le persone. Adesso ci arrivo. Questa qualche mese è pure buono dai. Sì sì no allora diventerà decente indubbiamente ma adesso no. Allora la premessa è il mazzo non è forte però è veramente divertente da giocare. Ragazzi questo uomo ha comprato pure lì quando costava 30 euro eh? 60. Tutto il mazzo. Quindi date gli erette eh perché si è preso le schio Ace. Nuovo meta eh? Io non credo però allora dicevo non è forte però è bello da giocare quindi partiamo con tre idranti. Parto con idrante per il semplice fatto che è la carta a base del mazzo. È l'addino per i mostri. È la carta che dà a base tutte le magie trappole a Rescue Ace effetti bonus. Cioè se hai lui in campo la carta può fare una cosa in più. Cioè è addino di mostro e ti permette di attivare le magie o le trappole Rescue Ace nel turn in cui sono state settate. Va in combo con il prossimo mostro che andremo a vedere. Turbulenza. La best di satana il più 4. Questo coso ti fa fare più 4. Ok non risolve mai perché per me non si è la becca per forza. Non esiste che risolve questo coso. Ti risolve un più 4. Va bene. Entra rimuovendo due carte Rescue Ace dal cimitero e 7 a 4. Carte Rescue Ace ovviamente. Tasse 4 generico sarebbe un altro discorso. Se il tuo adversario ti rimuove una carta dal terreno tu spacchi una carta sul terreno. Lui è forte. È il resto del mazzo che non gli sta dietro. Fire Engine è a livello 7. Contro Cache tira questa cosa è un problema. Quando un mostro di Rescue Ace è un normalato specialato lui si può specialare dalla mano. E quando il tuo adversario evoca specialmente un mostro tu puoi specialare un Rescue Ace livello 4 inferiore della deck. Un attacker. Altra carta che fa di plus. Come Fire Engine si speciala quando entrano le Rescue Ace. E quando il tuo adversario aggiunge una carta alla mano peschi due scarti uno. Si giocava in tier per un motivo. Si è giocato in tier. Ha fatto ridere quella cosa. Addino di magia. Questo è un normalo special da magia. Si può ributare effetto rapido quando il tuo adversario attiva un effetto sul terreno per specialare le Rescue Ace da mano. Altro modo per mettere dentro Turbulenza. Non è da sottovalutare perché può doggiare le impermanence. Carina come cosa. Permanence. Veiler. Murner. Quello che vi pare. Due impulso. Beh. Tra virgolette la entra del mazzo perché quando deve essere attiva un effetto sul terreno può specialarsi dalla mano e si può ributare effetto rapido per specialare un Rescue Ace macchina da deck. Chiamo entra perché effettivamente fa fare qualcosa nel turno dell'avversario ma non è ovviamente nessun genere di interruzione. O meglio ce l'ha un'interruzione ma per qualche motivo non è effetto rapido. L'intero mazzo dà la sensazione di essere stato fatto per non essere forte o che avessero troppa paura di farlo forte. Non lo so. Tre per della terreno. Ottima carta. Da normalo addizionale. Boost attacco e difesa se l'avversario controlla un mostro. E inoltre poi tu non puoi rimischiare quattro carte di reschiesse dal cimitero nel deck per pescare una carta. Questa cosa è fondamentale perché Turbulenza ti manda più quattro. Tu le quattro carte teoricamente le usi. E da poter riprendi con questa. Due alert. Devo ancora capire quale delle due magie è più forte. Abbiamo due alert e una Rescue. Non lo so. Questa se hai i dranti in campo funge da Dino dal deck. Questa normalmente ha dal cimitero. Se hai i dranti in campo ha anche dal deck. Questa invece speciale alla cimitero. Se hai anche i dranti in campo. Vospeciale al cimitero dell'avversario. Devo ancora capire quale delle due è meglio. Attualmente gioco due alert perché mi sembra più funzionale al gioco turno 1. Ma Rescue non è da sottovalutare. Magia che uscirà poi sarà forte. Emergency è forte. Abbiamo le tre trappole. Mono perché più brichi. Mazzo bricca. Neanche poco. Allora Reinforza. Partiamo alla trappola nuova. Questa da 1500 attacco e difesa a un Rescue Ace. Rende immune agli effetti dei mostri fino alla fine del turno. Si può rimuovere dal cimitero. Ah e protegge anche dalla battaglia per una volta. Si può rimuovere dal cimitero per fatti targhettare una magia. Rescue Ace nel cimitero e settartela. Extinguish è l'imperma del mazzo. Questa è quella che spacca. Se controlli un Rescue Ace targhetti il mostro e lo spacchi. Se controlli l'idrante il tuo avversario non può attivare gli effetti di quel mostro o di mostri con lo stesso nome fino alla fine del turno. Secondo effetto non è utilissimo ma in alcuni casi può tornare utile. Vedi ci sono vero superiori samurai che difetti non sono once. Ok. Contain. Questa è l'imperma del mazzo. Se controlli Rescue Ace fa imperma. Se controlli l'idrante il mostro che è targhettato non può essere usato per linkare, exisare, sinkrare e tutte queste cose qua. fino alla fine del turno. Andando fuori dall'archetipo perché per ora le carte sono poche e le carte forti sono ancora di meno. Tre parallel perché il mazzo bricca vogliamo gli extender. Questo è generico. Gioco tutti i link uno possibili salvo il link Uribo perché non c'ho. Due Naganaki. Naganaki tributo a mostro macchina per specialare mostro macchina con attacco difesa. Attacco pare alla difesa e inferiore all'attacco difesa del mostro che ha tributato. Si può tributare per specialare idrante. Questo è un modo per portare dentro idrante in sostanza. Per prosperity perché il mazzo bricca. Quindi prosperity. L'extra deck è completamente generico. Non ha una singola carta di extra deck. Quindi si può bandire quasi tutto. Meno male. Rinforzi perché airlifter è warrior. Anche impulse ma si prende airlifter quasi sempre. Ragionando è un po' una trollata nel senso che ok il mazzo a livelli diversi non è proprio una carta ottimale. Però è un extender generico. La carta mi piace proprio personalmente. A quel livello di gusto. Questa mi piace un sacco. Me la faccio andare bene. È tornata da 3p di una volta quando l'ho giocato. Quindi normalmente dopo una ragionando 2p di race potrei giocare 3p di race. Solo che se ne vedi 2 in mano è veramente pesante. Non lo puoi fare. Tutti addini per idrante perché idrante ti fa partire. E le hand trap. Ne vorrei giocare di più ma il mazzo bricca. Per droll perché il metal richiede. E 3 ash perché non sapevo cosa mettere. Questa mi è sembrata la più generica. Avanti con l'extra. Idrante a livello 1. A volte serve linkarlo via. Al mirage. Questo è il modo che hai il 90% dei casi di far partire parallel. Questo è il link 2. Ma il mazzo bricca. Due mostri spesso volentieri non li metti. C'è molto da dire. Mascherina generica. La metti lì e speri che l'avversario non te la levi o non ti entri in battle perché ha un 800 d'attacco. Elmer Phoenix. Link generici. Non ce ne sono così tanti davvero forti. Spaccare maggio trappole è utile. Ed è fuoco. Ida. Gli eschioli sono tutti fuoco. Nonostante siano dei pompieri. Capita molto spesso di tirare sulle asce dal cimitero dell'avversario. Link climbing. Non fa mai schifo. Unicorn. Shuffle generico. BLS link perché i mostri di livello alto sono facili da mettere dentro qua. E questo coso non te lo lasciano in campo. Però fatto con un mostro di livello 7 superiore non è neanche facilissimo da levare. Il fatto sta che se non te lo tirano via è solito. Droboros. Sì è in francese. Lasciamo perdere. Molto semplicemente i mostri di SQA si possono taggare fuori per portare altri a raffica. E succede molto spesso che piazzi questi in una zona. Aspetti qua sul momento giusto e usi effetto di impulse da mano speciale da deck sotto e rimuovi tutto il campo. È successo più di una volta e salva molto spesso. Per lo stesso ragione bomber. Stessa identica cosa. Funziona contro mazzi diversi. Quelle più per i mazzi control. Queste più per i mazzi combo. Perché queste sono mostri. Zeroboros è anche magia di trappola. È in francese. Non lo posso leggere anche volendo. In teoria dovrei sapere il francese. L'ho studiato. Apollusa. Perché secondo target di mascherina. Terzo target di mascherina. A volte serve. Il mazzo non ha modo di tirare sopra le torri. Questo se si mette 4 mostri più eri. Vai ciao. Axiesco detto il mazzo non ha solo link Axies generici. Teniamo quello che abbiamo. Axies. Baguska. Perché mostri. Cioè è lifter a livello 4. Parallel a livello 4. Capita spesso che nell'handboard ci sia questo così in difesa. Fatto da due parallel. Che ti guarda. Minacciosamente. Seaton. Perché andando secondi. Bricca andando primo. Figuriamoci secondo. Questo coso serve. E Zeus. Perché se giochi un Axies. Allora devi giocare a Zeus. Non esiste. E va bene ragazzi. Il video finisce qua. Spero come sempre vi sia piaciuto. E fatemi sapere qua sotto con un commento se monterete mai il Axies. Più 4. Sì non lo fate. Ragazzi non fatelo. Non montate il Axies. Detto questo ragazzi. Statemi easy. E noi ci rivediamo domani sempre qua con un nuovo video. Ciao a tutti. Ciao.